Nella sezione lotti e porzioni è possibile procedere alla formazione dei lotti e dall'attribuzione degli immobili o di porzioni ai singoli soggetti attraverso un editor grafico, tramite drag and drop. In automatico verranno calcolati i valori dei lotti e gli eventuali conguagli. Cliccando con il tasto destro del mouse sui lotti o sulle porzioni verranno visualizzati comandi contestuali alla selezione che permetteranno ad esempio di dividere ulteriormente la porzione o esportare il grafico in diversi formati o altro ancora. Attraverso la vista globale potremo visualizzare per intero i lotti e le porzioni qualora il numero dei lotti fosse elevato ed è disponibile anche una vista riepilogativa che mostra il valore del lotto, il valore delle quote e l'eventuale conguaglio per ciascun soggetto. Expert Trasferimenti Immobiliari ci permette di eseguire una stampa dettaglio lotti e una stampa assegnazione lotti. Analogamente al progetto di compravendita sarà possibile procedere alla stampa della relazione tecnica relativa al progetto di divisione, scegliendo di integrare o meno in essa gli allegati generati nel quadro relazione tecnica. Il fascicolo della pratica così ottenuto conterrà il dettaglio dei lotti e tutti i valori e le valutazioni degli immobili trattati nel progetto di divisione.